Buon pomeriggio a tutti, in questo ambiente è facile immaginare quanto mi abbia messo in difficoltà con quello che ha detto, perché veramente credo che poi avrò bisogno di un trattamento, perché ha detto talmente cose non vere oltretutto. Comunque ringrazio moltissimo Federico Bianchi Castelbianco, amico da tantissimi anni, Magda Di Renzo per questo invito, per essere qui con voi, invito che apprezzo molto e mi ha fatto anche molto piacere ascoltare quello che Federico ha detto, col suo solito entusiasmo, la dedizione, la concretezza, la professionalità che catterizza lui e tutti coloro che lavorano con lui. E poi mi fa molto piacere essere qui perché voi vi occupate di bambini, ma tra i bambini poi quelli più deboli e quindi effettivamente coloro che più hanno bisogno. L'argomento che mi era stato dato il pediatra è in sinergia con gli altri specialisti, quindi avrei dovuto far vedere cerchi che si intersecano, frecce che vanno in una direzione dell'altra, in realtà penso che sia più interessante, riagganciandomi proprio a quello che ha detto Federico, fare alcune riflessioni con voi su quella che è la situazione attualmente che stiamo vivendo come paese e quello che poi ha fatto sì che noi ci ritroviamo ad avere i bambini che oggi abbiamo e le situazioni che oggi abbiamo. In realtà fino a non tantissimo tempo fa questa era la famiglia tipo, vedete c'erano due genitori con 16-17 figli, quindi c'era proprio una realtà completamente diversa, c'era la delega del fratello minore e del fratello maggiore, ma c'erano anche questi dati, noi avevamo una mortalità del 30% infantile, un'aspettativa di, io sarei già morto da 16 anni insomma con quell'aspettativa di vita, quindi insomma ci è andata bene per fortuna e poi avevamo una natalità molto importante e su questo poi ci soffermeremo brevemente. Sentivo i numeri del disagio, beh in pediatria è ben noto che noi abbiamo circa un milione di bambini, compresi anche i vostri, che hanno necessità assistenziali complesse. Quindi in realtà i numeri reali e veri sono questi, non sono 2 milioni, 7 milioni, 10 milioni, ma sono in ogni caso dei numeri molto importanti. Ma l'altro aspetto molto interessante è quella che è stata la piramide demografica che vedrete che è cambiata significativamente, ma è cambiata fortunatamente che cosa? Anche la mortalità infantile. Allora effettivamente c'è un po' di contraddizione, cala la mortalità ma in realtà diminuisce la popolazione infantile, ma diminuisce in maniera drammatica e questo è l'altro aspetto che cala la mortalità, aumenta l'aspettativa di vita e quindi di fatto abbiamo una popolazione che è progressivamente sempre più vecchia, sempre più anziana e questo è un altro dato che dobbiamo prendere in considerazione. L'altro aspetto non trascurabile è quello che ha sostanzialmente modificato proprio la nostra popolazione e che l'Italia è caratterizzato dal più basso tasso di fertilità che c'è al mondo. Quindi noi abbiamo una media di 1.3 e 70, 1.4 di bambini a donna fertile e questo è un altro elemento che deve far riflettere sul piano sociale, su quello che è poi il tipo di situazione che noi ci troviamo a affrontare e quindi il grande numero di figli unici e tante altre situazioni, rispetto ad altre realtà europee dove il tasso di natalità è decisamente superiore. Sapete tutti che si era tentata un'operazione importantissima per sensibilizzare la popolazione, tutto è stato fatto crollare per motivi di campagna di comunicazione, chiaramente una cosa strumentalissima perché di fatto quello che si voleva era combattere il messaggio dell'attenzione a questo problema e del dovercene occupare. Ma il problema della bassa natalità è un problema serissimo, importante che dovremmo affrontare prima o poi in maniera molto molto seria. Perché lo dobbiamo affrontare? Perché nel 2015 siamo arrivati per la prima volta dal dopoguerra ad avere meno di mezzo milione di nati in Italia. 488 mila. Si era tanto detto dell'importanza del contributo dato dai non italiani a questo, ma dato che deve anche questo far riflettere, quando una donna proveniente da un paese dove c'è un tasso di natalità con un indice di fertilità che è 3, 3,5 come può essere il Marocco o piuttosto l'Algeria, in seconda generazione le donne si adattano tranquillamente ai tassi di natalità italiani. Allora probabilmente si tratta di un fatto culturale sul quale dover riflettere. La piramide demografica, vedete il 1900, progressivamente si va avanti e non è più una piramide, vedete che diventa una sagoma strana nella quale alla base c'è un punto che è sempre più stretto e questo anche deve far riflettere perché questo fa parte poi di quello che voi fate come mestiere perché evidentemente, ed era condivisibilissimo quello che diceva prima Federico Bianchi di Castelbianco, evidentemente c'è qualcosa d'altro che non è semplicemente l'eccesso di diagnosi, ma c'è evidentemente un atteggiamento culturale e mentale che dovrebbe essere rivisto e questa è la famiglia di oggi. Il professor Ricciardi in genere fa vedere una bellissima diapositiva fatta con un bambino piccolo, poi ci stanno i genitori, poi ci stanno i nonni, poi i bisnonni e quindi un unico bambino che regge sulle spalle tutti quanti, ma qui vedete che c'è un solo bambino e tantissimi adulti e questa è la realtà e questo ha delle implicazioni anche per voi, per il mestiere che fate e anche per i rapporti che ci sono. L'altro problema è che in realtà la famiglia, anche questo è un argomento tabù del quale non si può parlare, non si deve parlare, non si sa perché, ma la famiglia in Italia, tutto ciò che è welfare per la famiglia è bassissimo, è pressoché inesistente ed è questo poi il motivo per cui in altre nazioni come la Francia o la Svezia c'è un tasso di Natale diverso, c'è un supporto alle attività della famiglia che è ben diverso e questo fa la differenza. Questo evita quelli a cui faceva riferimento Federico che non sono disturbi psichiatrici o comportamentali ma che sono espressioni di un disagio culturale e sociale molto molto forte sul quale dovremmo lavorare e non poco. Questa è la percentuale, vedete, che è decisamente più bassa, questi sono i dati europei e vedete che l'Italia ha una condizione disastrosa. Quindi il vero punto, diciamo, a cosa c'entra questo con la pediatria o con quello che voi fate? Beh, c'entra tantissimo. Noi come pediatri ci siamo resi conto che parlarci addosso tra di noi serve a poco, che dobbiamo coinvolgere il sociale, dobbiamo rivolgerci alle istituzioni, dobbiamo parlare con i giornalisti, dobbiamo far sì che questi che sono problemi veri e dei quali non si parla vengano affrontati perché sono il problema della nostra società attualmente. L'altro aspetto che deve far riflettere è quello dell'aspettativa di vita, vedete che nel donna è decisamente superiore agli uomini, ma aspettativa di vita come? Da sani o da malati? Avete visto che numero, se davvero fosse vero che ci sono due milioni su otto di bambini che hanno problemi, che futuro ci attende? Sono pochi eppure malati. Allora su questo effettivamente bisogna riflettere. E l'altra cosa sulla quale ci si batte molto e si è concentrata molto l'attenzione sono le cosiddette malattie non trasmissibili. Quali sono queste malattie non trasmissibili? Sono tutte quelle malattie che non possono essere trasmesse, quindi i tumori piuttosto che l'insufficienza respiratoria, il diabete. E l'altro aspetto sono le malattie rare. Ci si è dimenticati di tante altre cose che in realtà forse meriterebbero molta molta attenzione. Queste sono le percentuali di morte che sono date per tipo di patologia, ma fanno riferimento chiaramente alla popolazione adulta. Uno dei grossi problemi dei quali si parla spesso è quello della obesità e anche su questo bisogna riflettere, ma anche questa è espressione di qualcosa che non va, è espressione di un disagio, è espressione di problemi comportamentali. Non è semplicemente un fatto alimentare o un fatto genetico. Sì, ci sono adesso molte teorie per cui l'obesità sarebbe una malattia per certi versi infiammatoria. Ci soffermeremo brevemente anche su questo, diciamo, interessantissimo discorso dei primi tre anni di vita che sono fondamentali per quello che è lo sviluppo di una personalità e quindi che se noi abbiamo dei problemi a 60 anni, questo dipende anche da quello che ha mangiato nostra mamma quando ci aspettava, però chiaramente è anche questa espressione di un disagio. E l'altro punto sul quale mi fa piacere soffermare un attimo la vostra attenzione invece è rappresentato da che cosa? Si è parlato adesso delle neuroscienze, la genetica. Beh, quello che è avvenuto di veramente rivoluzionario è che cosa si è scoperto? Si è scoperto che in realtà mentre fino a 20-30 anni fa noi eravamo convinti che quello che era scritto nei 21 cromosomi era qualcosa di rigido, di inamovibile, quindi quello che c'era in quei 21 cromosomi quello era. Si è scoperto poi invece negli ultimi 15-20 anni che quello che fa la differenza era quello che noi consideravamo il DNA spazzatura, il junk DNA. Quindi in realtà vedete che i geni rappresentano solo il 3% e tutto il resto è che cosa? È altro, ma è altro in grado di modulare, di modificare anche quel 3% e da qui nasce il concetto dell'epigenetica, quindi della possibilità che di fatto tutto ciò che ci accade intorno possa modificare la nostra predisposizione generica. L'esempio più banale è se io fossi predisposto ad avere il tumore del polmone, se non fumo e sto in un ambiente non inquinato, questo mio rischio viene totalmente abbattuto anche se geneticamente sono predeterminato per questo. Se io non sono geneticamente predeterminato ad avere il tumore ma fumo, sto in un ambiente inquinato e ne faccio di tutti i colori, probabilmente il tumore mi irrà. Questo è spiegato in maniera molto semplice, quindi si passa da una fase in cui il genoma era qualcosa di rigido e che quindi l'ambiente poteva sì influire ma poco su quello che era il fenotipo, a una situazione invece in cui il genoma e l'ambiente interagiscono e possono in qualche modo modificarci. E questo appunto è quello che dicevamo dell'epigenetica. Ma in pediatria, e c'è un progetto in tal senso sia ministeriale, quindi fortemente voluto dall'attuale ministro e pochi ministri come questi, indipendentemente da come la si pensi politicamente, come dato oggettivo da pediatri, lo diciamo, questo ministro ha avuto una sensibilità nei confronti della pediatria e dei bambini come non mai prima e idem vale per il professor Ricciardi, presidente dell'Istituto di Sanità. E quindi c'è questo progetto dei primi mille giorni. Che cosa riguarda questo progetto dei primi mille giorni? Riguarda l'osservazione e la documentata scientificamente che effettivamente noi siamo per buona parte ciò che ci accade proprio in quei primi mille giorni, quindi durante il periodo della gravidanza e nei primi due anni di vita. In questo periodo si possono fare tantissime cose, non solo per quanto riguarda il senso di salute classico, di benessere, quindi cuore e polmoni, ma anche per quelle che saranno poi le nostre attitudini, i nostri comportamenti da un punto di vista psicosociale. Quindi questo è il periodo in cui tanto si può fare. E sentivo prima parlare il dottor Federico Bianchi Castibianco dell'importanza delle diagnosi corrette o dell'affrontare correttamente. Beh, tra questo c'è sicuramente una precocità di intervento. Brevissimamente a che cosa si fa risalire questa teoria? Alla cosiddetta carestia olandese, ossia durante la guerra l'Olanda fu occupata da forze nemiche, quindi quelle tedesche, e in quel periodo si arrivò a dei gradi di povertà, oltretutto accompagnati dal fatto che era una stagione invernale, ghiacciò il mare, quindi non c'era modo di approvvigionarsi in nessun modo, e quindi le donne che aspettavano dei bambini in quel periodo erano in condizioni di iponutrizione reale. Si passò da 2200 calorie a 400-600 calorie per donna. E questo che cosa ha comportato? Che a 60 anni, coloro che erano nati da quel tipo di gravidanza, a seconda se si erano ritrovati in quel periodo della gravidanza, nel primo trimestre di gravidanza, nel secondo, nel terzo, avevano delle patologie diverse. Quindi c'era chi aveva essenzialmente problemi al sistema cardiovascolare, il secondo trimestre, e chi aveva invece problemi del sistema respiratorio, il terzo trimestre. E questo ha fatto riflettere sul fatto che, indipendentemente dalla genetica, poi ci sono evidentemente dei fattori che possono forsemente influenzare la nostra condizione di salute. È ben documentato, per esempio, l'importanza dell'allattamento al seno anche per delle patologie come il diabete e non solo. E quindi, ritornando a quello che dicevamo prima, dobbiamo metterci nelle condizioni di curare le radici e nessuno più dei pediatri può farlo perché può agire perché queste malattie non trasferibili non abbiano rilevanza importante. Ma non esistono solo le malattie non trasferibili e questa è l'altra cosa sulla quale dobbiamo riflettere. Ci siamo completamente dimenticati delle malattie infettive o quasi. Questa sensibilità abbassata sul ruolo delle malattie infettive ha fatto sì, ad esempio, che vengano poste in discussione le vaccinazioni e in questo ambiente so che è inutile rimarcare il fatto che non esiste nessun nesso tra le vaccinazioni e l'autismo, che viene sempre citato. È ormai scientificamente stato dimostrato che non c'è nessun rapporto. È stato ribadito, sono state fatte numerose pubblicazioni ma sono state fatte poi di fatto degli esperimenti di natura perché laddove sensibili a queste falsità ma che per un tempo erano documentate purtroppo anche scientificamente alcune vaccinazioni sono state abbandonate come in Giappone, beh nel periodo in cui i bambini giapponesi non sono stati vaccinati i numeri dei casi di autismo erano leggermente aumentati quindi paradossalmente uno potrebbe desumere che la vaccinazione protegga. Non è così ovviamente, è stata una casualità, però credo che sia molto importante riflettere su questo ed è per questo che voglio semplicemente soffermare la vostra attenzione su quanta importanza abbia il mondo microbiologico perché vedete che negli ultimi anni vengono descritte più di 500 nuove specie tutti gli anni quindi noi di fatto fino al 1980 eravamo fermi a circa 1800 germi e adesso abbiamo questo tasso di crescita vedete che è esponenziale perché sono semplicemente aumentate le possibilità diagnostiche che cosa si sta avvenendo? Che molte malattie non diagnosticate molto spesso hanno dei trigger dei fattori scatenanti che sono di origine infettiva e quindi anche questo va considerato e va considerato anche nell'ambito della protezione per queste malattie che sono le malattie infettive e chi deve essere vaccinato più degli altri? Proprio in buona parte i bambini che voi seguite perché sono più fragili, più esposti quindi alla possibilità di contrarre le malattie e averne dei danni notevolissimi. E allora il ruolo del pediatra, il ruolo del pediatra è profondamente cambiato. Quando io ho iniziato a fare il pediatra essenzialmente il pediatra era semplicemente il medico del bambino, era quello che doveva curare le malattie, il bravo pediatra era quello che diagnosticava la polmonite e dava l'antibiotico, era quello che sapeva trattare la gastroenterite piuttosto che la nefrite. Beh questo non basta più, non è più sufficiente, viviamo in quel tipo di società che brevemente ho cercato di porre la vostra attenzione, una società in cui non c'è rispetto dell'infanzia e da cosa è testimonato questo, da tanti fattori ma soprattutto dal fatto della bassa naturalità. Cioè in una società nella quale non nascono bambini, a parte il fatto che è una società che ha scarse possibilità di futuro, ma vuol dire che non c'è una cultura che metta le donne nelle condizioni di avere bambini e questo è quello che è estremamente grave, questo è quello che non va al di là del dato oggettivo che abbiamo pochi bambini che nascono e che non si fa nulla e non si pensa a migliorare questa condizione, che è un fatto culturale, sociale, non è certo economico, tant'è vero che molto spesso hanno più bambini le famiglie più povere, quindi i due estremi, i molto ricchi e i molto poveri. E allora il pediatra non è semplicemente quello che dicevamo che cura il bambino, ma è qualcuno che deve cercare di incidere nella società per far sì che alcuni comportamenti cambino. La collaborazione con i colleghi di fatto c'è, c'è sempre stata, ma anche questa non basta, tant'è vero che ormai sono anni che come società della pediatria che cosa facciamo? Approfittiamo del 19 novembre che è la giornata dell'infanzia per fare i cosiddetti stati generali della pediatria e che cosa sono gli stati generali della pediatria? Sono un momento nel quale cerchiamo di portare l'attenzione dei media, della società su alcuni problemi. L'anno scorso furono le vaccinazioni, quest'anno sono chi? Beh, sono i bambini che arrivano in Italia con delle speranze da mondi e da posti dove purtroppo di speranze non ce ne sono. E quindi in questo tipo di società che sta cambiando, che cosa bisogna fare? Sì, bisogna cercare di collaborare molto, ma bisogna anche cercare di fare in maniera, come è stato sottolineato nel precedente intervento, che non ci sia la medicalizzazione, che ci sia una diversa attenzione ai bambini. Noi non abbiamo bisogno per interessarci ai bambini che il bambino sia malato. Noi ci dobbiamo interessare ai bambini che stanno bene, soprattutto per continuare a far sì che stiano bene. Aver cura dei bambini da prima che nascono e da dopo che sono nati. E creare, cercare culturalmente di creare delle condizioni per cui si possa serenamente parlare di fertilità e questo non sia un tabù. Si possa serenamente parlare di famiglia e questo non sia un tabù. E allora su questo noi dobbiamo lavorare, lavorare insieme, ma lavorare insieme soprattutto a chi si occupa di quei bambini più fragili e più delicati e quindi essenzialmente con voi. Chiudo semplicemente ricordando, per chi fosse interessato, che il nostro congresso si svolgerà a Firenze dal 16 al 19, ma quanti sono i pediatri in Italia? I pediatri in Italia sono 13.000, iscritti alla società di pediatria quanti sono? 10.000, ma cosa sta succedendo anche in questo campo? Che cosa accade? Accade che nel 2030 i pediatri saranno 7.500, esattamente alla metà. Perché? Perché anche in questo non c'è programmazione. E quindi di fatto i pediatri che vanno in pensione sono circa 1.000 l'anno, a partire da adesso, quelli che si formano sono 300 l'anno. Altro segno di disattenzione al bambino e a quelle che sono le sue necessità. Perché il bambino può essere gestito dal punto di vista non solo sanitario, ma in generale se ha un problema renale dal nefrologo dell'adulto? No, ve lo dico subito, anche perché le patologie sono completamente diverse. La nefrita in un bambino è una cosa e in un adulto è un'altra. Allora anche su questo dovremmo riflettere, su quanto sia importante che, visto che rimarremo pochi noi e pochi siete voi, che si lavori insieme, che ci sia continuità delle cure, che ci sia un rapporto sempre più stretto perché altrimenti il bambino sarà sempre più abbandonato. Vi ringrazio.